Sabato 14 aprile alle ore 10 viene effettuata a Palazzo Lascaris la visita guidata per i cittadini in gruppi di minimo 15 persone, massimo 30. Prima della pausa di agosto sono a calendario le visite nei sabati 5 maggio, 9 giugno e 7 luglio. Nel corso della visita, che dura circa un'ora e mezza, vengono illustrati il ruolo e funzioni istituzionali del Consiglio regionale e la storia del palazzo dal punto di vista storico-architettonico. Dopo il video introduttivo l'itinerario si snoda dall'atrio al belvedere alle sale auliche per concludersi nell'aula sotterranea dell'Assemblea regionale. Prenotazioni telefoniche per le visite dei cittadini allo 011 5757 509.